La vicenda del sequestro della condotta sottomarina a Trani è solo l'ultima delle scandalose vicende che hanno riguardato la gestione della cosa pubblica di questi ultimi anni. Il fatto che la condotta sottomarina finanziata per oltre 4 milioni di euro dal commissario delegato per l'emergenza ambientale fin dal lontano ottobre 2001 non fosse ancora allacciata al depuratore di Trani era un fatto noto. Lo abbiamo denunciato anni addietro chiedendo anche conto delle condizioni delle costosissime apparecchiature tecniche ancora in cantiere mai utilizzate. A scriverlo sono i verdi in una nota firma del segretario politico Michele Di Gregorio e del consigliere comunale Francesco Laurora. Ricordammo, insistono, anche il contenzioso sorto con l'impresa aggiudicatrice dei lavori e le contestazioni mosse dalla regione Puglia nei confronti del comune di Trani in relazione alle modalità di affidamento della direzione dei lavori, del servizio relativo alla valutazione d'impatto ambientale e le modalità di rendicontazione dei lavori stessi. Prescindendo dall'opportunità di tale opera incompiuta, considerando che forse sarebbe stato più opportuno prevedere la riutilizzazione per le esigenze dell'agricoltura delle acque di scarico del depuratore piuttosto che il semplice sversamento a largo delle acque come se le correnti marine non esistessero, intendiamo ricordare alle tante alici nel Paese delle Meraviglie che in questi giorni apprendono di tali vergogne anche la vicenda del depuratore cittadino. Nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 22 settembre 2009, ricordano i Verdi, venne sottoposto al vaglio dei consiglieri un mostruoso debito fuori bilancio nei confronti della società che aveva eseguito i lavori di adeguamento alle norme CE del depuratore cittadino. Infatti, in seguito alla risoluzione per colpa e grave inadempimento del comune di Trani del relativo contratto di appalto, un lodo arbitrale aveva condannato il comune a pagare in favore della stessa azienda la somma di circa 500.000 euro. Tuttavia, nel corso della seduta, il provvedimento venne inspiegabilmente ritirato. Che fine ha fatto questo debito fuori bilancio? Il debito è stato saldato. I trenesi che notoriamente hanno memoria corta lo ricordano questo ennesimo regalo o faranno finta di sorprendersi? Infine il tormentone. Quanti sono i debiti fuori bilancio del comune di Trani che nemmeno i revisori dei conti riescono a certificare? A noi piace ricordarlo a coloro che hanno la memoria molto corta.